Amici dello sportello del cittadino, da un po' di tempo ci stiamo soffermando nelle periferie di Taranto. Siamo a San Vito, in via Lido Bruno, in prossimità di alcuni stabilimenti balneari e vedete proprio lo stato di degrado in cui si trova la zona. Una discarica, una maxi, una mega discarica a cielo aperto. C'è di tutto, certamente ci sono i cittadini incivili che depongono, che abbandonano vergognosamente, incivilmente i rifiuti, fossero solo rifiuti. Qui abbiamo frigoriferi, un frigorifero, un materiale di risulta, persino tronchi di alberi. Però, viva Dio, l'amministrazione comunale quando interviene. A tutt'oggi sono trascorsi circa dieci giorni e nessuno dell'amministrazione comunale si è degnato di far eseguire una rimozione di questi rifiuti. È assurdo. Ripeto, qui creiamo danni agli stabilimenti balneari, creiamo danni alle abitazioni, creiamo danni al cittadino contribuente, Creiamo danni ai militari che transitano da queste parti, proprio alla luce delle realtà militari insistenti sul territorio. Signor Sindaco, penso che sia arrivata l'ora di intervenire. Signori dell'AMIU, quando ci dobbiamo dare una bella mossa? Perché i presidenti cambiano, ma la musica all'AMIU è sempre la stessa. Degrado in città c'era e degrado in città c'è. Mediti signor Sindaco, mediti l'AMIU e meditiamo noi cittadini, soprattutto quando andiamo a votare.